Notte prima degli esami, notte di po'... Ti è arrivato un'email Buonasera agente casco, sta studiando per gli esami? Beh, io ho sfigato, li ho già fatti eh! Comunque, la sua nuova missione, se dovesse accettarla, riguarda il recupero delle tracce della prima prova della maturità di quest'anno. C'è giunta voce che gli argomenti saranno i più bastardi mai visti. Peraltro, la sua missione sarà quella di infiltrarsi nel Ministero della Pubblica Istruzione e rubare le tracce, ma mi raccomando! Attento, attento al Ministro, è una persona spietata e pericolosa. Come sempre potrà scegliere i compagni per questa missione. E se qualcuno di voi dovesse venire catturato o ucciso, noi negheremo di essere stati al corrente dell'intera operazione. Ci auguriamo che lei accetti questa missione e che recuperi le tracce, signor casco. Così... potremmo venderle al miglior offerente e farci un sacco di soldi! Cioè, voglio dire... Perché tutti gli studenti d'Italia contano su di lei! Io passo e chiudo, ciao! Ciao! BIN... Grazie a tutti Oh merda Cerca di queste Però Sa E' un onore conoscerla finalmente Agente casco Perché non urli dal dolore? Non ha scelta Io ho rotto la mascella Davvero? Che schifo Guarda quanti peli Beh Direi che ci siamo divertiti abbastanza Addio Agente casco Che toman Grazie a tutti. 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 No! 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 No!